Dal 10 maggio chi ha più di 50 anni potrà prenotare il vaccino, diventa così concreto il cambio di passo nella campagna di protezione dal coronavirus, nel Lazio entro luglio verranno immunizzati i trentenni. Il governo lavora al prossimo ristori mentre in piazza diverse categorie di lavoratori chiedono aiuti concreti e protestano contro i pochi centesimi ricevuti fino ad oggi. Scontro nella manica sulla pesca, sfida navale fra Gran Bretagna e Francia, Johnson manda due motovedette, Parigi risponde con altre tante navi da guerra ma poi i due contendenti aprono al negoziato. Pagano il prezzo più alto sempre solo i più deboli che si chiamano stranieri, migranti ed emarginati. È severo Papa Francesco contro nazionalismi e individualismi nel messaggio per la giornata mondiale del migrante e del rifugiato. Buonasera, quasi 12 mila nuovi contagi e 258 vittime nelle ultime 24 ore. I dati di oggi sull'andamento della pandemia nel nostro paese ci dicono che la campagna di vaccinazione sta funzionando. Da lunedì potranno addirittura prenotarsi i cinquantenni. Fabio Bolzetta. Semaforo verde sulla base del buon andamento delle somministrazioni sul territorio nazionale e così l'Italia accelera raggiungendo l'obiettivo di vaccinare anche i cinquantenni. Da lunedì 10 maggio infatti sarà possibile per i cittadini tra i 50 e 59 anni prenotare il proprio turno. Per i nati fino al 1971 dunque il Lazio si dice pronto a vaccinare i trentenni residenti entro il mese di luglio. Oltre 22 milioni le dosi somministrate sino ad oggi in tutta Italia. Di queste 6 milioni 766 mila con entrambe le dosi. Il governo lavora per una estate covid free. Misure per promuovere il turismo anche internazionale. Verso la politica il Parlamento lavora al sostegno per le categorie economicamente colpite dalla pandemia ma non mancano polemiche e proteste. Augusto Cantelmi. Continuano le proteste e oggi nuove manifestazioni di piazza con i precari della scuola che chiedono la stabilizzazione mentre partite IVA e ristoratori invocano aiuti concreti e la fine del coprifuoco. Adesso dovrebbero arrivare i nuovi ristori del governo? Non ci crediamo. Non ci crediamo anche perché stanno perdendo troppo tempo. È già un mese che dicono che questo scostamento di bilancio doveva essere già approvato. È in testa di aiutare veramente le persone sul fatturato che abbiamo perso. Se un'attività ha avuto un calo di fatturato del 100% nell'ultimo anno e mezzo, mi spiegate poi queste attività, cosa se ne fanno di un contributo che vale un centesimo rispetto al loro reddito. Intanto è un incrocio di decreti tra governo e Parlamento. Al Senato arriva la fiducia sul sostegno I1 da 32 miliardi tra le novità. La proro al 31 dicembre dell'esenzione della tassa sull'occupazione del suolo pubblico e non mancano le tensioni comunque nella maggioranza con i 5 Stelle che criticano lo stralcio del cosiddetto super bonus per le imprese. Slitte invece la prossima settimana e la decreto legge sostegni bis resta il nodo sul meccanismo dei ristori alle imprese che dovrebbe assorbire tra i 20 e i 22 miliardi sui 40 a disposizione. Adesso con Luca Licata andiamo a capire che aria tira nel settore turistico duramente colpito dall'emergenza sanitaria. Il procedere più spedito delle vaccinazioni e il Green Pass sono tutti fattori che fanno pensare a un segnale di speranza. Vediamo. Nessun accenno di ripresa se non timido. A Roma turisti al momento se ne vedono pochi e a soffrire sono tutte quelle attività come hotel, ristoranti ed esercizi commerciali. Turisti pochi, pochissimi. Ho visto una famiglia di americani ieri. Basta. Il resto niente. Turisti stranieri? No, assolutamente no. Al momento noi non abbiamo nessun tipo di prenotazione di turisti stranieri. Non credo che prima di settembre riprenderemo a lavorare benino. Fortunatamente qualche turista inizia ad esserci e non capiamo bene ancora la nazionalità da dove arrivano. Qui iniziamo a vedere anche alcuni gruppi di turisti che fanno dei tour guidati prevalentemente nel sabato e la domenica. Un po' di gente è venuta però tutta gente di zona. Qui in genere si facevano i soldi con i turisti. Quindi molti italiani e pochi turisti. Quanto ai sostegni c'è chi dice che sono arrivati però non bastano. Gli importi non sono sufficienti a coprire le spese. Sostegni? Qualcosa è arrivato. Gli ultimi sostegni sono arrivati, sì. Non grosse cifre però sono arrivati. Il turismo è ancora basso, basso, basso. Troppo basso. Rispetto a quello che facciamo. Questa è una zona che vive il 90% di turismo. Adesso si farà un tavolo al giorno. Gli aiuti sono arrivati. Però non sono sufficienti per poi far funzionare tutto a livello di attività. In questo momento in cui così tanti in India stanno soffrendo a causa dell'attuale emergenza sanitaria, io scrivo per trasmettere la mia sincera solidarietà e vicinanza spirituale a tutto il popolo indiano insieme con la certezza delle mie preghiere. Così Papa Francesco in un messaggio al Presidente della Conferenza dei Vescovi Cattolici dell'India, paese devastato dal coronavirus. I vaccini sono un bene comune, globale. Le parole di Mario Draghi sulla stessa linea del Presidente americano Biden che si è detto pronto a far togliere la protezione dei brevetti. la Casa Bianca incassa anche il sostegno dell'Unione Europea. Pierluigi Vito. Angela Merkel ha detto Nein. La cancelliera tedesca ha manifestato contrarietà alla liberalizzazione dei brevetti sui vaccini, invocata nelle ultime ore dagli Stati Uniti, asserendo che potrebbe avere ripercussioni negative sulla produzione. Una visione opposta a quella di Joe Biden che mira a ottenere almeno una sospensione della proprietà intellettuale su formule e procedure per la realizzazione dei sieri. Le case farmaceutiche si oppongono, parlando di una risposta sbagliata a un problema complesso. Contro di loro cresce la mobilitazione di cittadini e associazioni, intenti a raccogliere firme per fare pressione sulle istituzioni affinché i brevetti cadano. Oltre il 90% dei vaccini anti-Covid si sta concentrando nelle mani dei paesi più ricchi. Occorre apportare delle serie modifiche alla gestione dei brevetti e in questo caso sospenderli nel più breve tempo possibile. È un problema di tutti e non soltanto delle popolazioni più svantaggiate. Basti pensare all'India, che da settimane fa registrare nuovi casi di Covid a centinaia di migliaia ogni giorno. Bloccare il contagio in ogni paese è quindi interesse di tutte le nazioni. I vaccini sono un bene comune globale, ha detto oggi il premier Mario Draghi, ed è prioritario aumentare la loro produzione. Come pure ha sottolineato Ursula von der Leyen, farli arrivare a chi ne ha bisogno. La Presidente della Commissione europea ha evidenziato come l'Unione sia la maggiore esportatrice di vaccini a livello mondiale. Oltre 200 milioni di dosi prodotte nei confini dell'UE sono stati spediti ad altri paesi, a differenza, ha rimarcato von der Leyen, di chi tiene per sé i vaccini prodotti. E il riferimento a Washington e Londra è tutt'altro che casuale. Nella notte tra il 14 e il 15 marzo 2019 il reparto di neonatologie dell'ospedale centrale di Beira in Mozambico è stato completamente distrutto dalla furia del ciclone Idai che ha raso al suolo il 90% della città. Grazie all'aiuto di tanti amici e sostenitori, medici con l'Africa QAM oggi ha consegnato alla popolazione un reparto ricostruito e ampliato per la cura di mamme e bambini. Parliamo adesso della guerra della pesca. Londra e Parigi schierano le navi militari nella manica. Ieri sera Boris Johnson ha inviato due motovedette nei pressi dell'isola di Jersey, le cui acque circostanti erano state prese d'assalto dai pescherecci francesi. Cesare Cavon. L'effetto della Brexit ha fatto salire la tensione nel canale della manica tra Regno Unito e Francia. Ne è nato un conflitto per quella che potrebbe passare alla storia come la guerra della Paranza. Una sessantina di pescherecci francesi hanno inscenato da giorni una protesta a largo dell'isola britannica di Jersey contro le indicazioni ritenute penalizzanti imposte da Londra alla loro attività. Il problema è che se le grandi barche non possono uscire lontano si avvicineranno alla terraferma quindi la fascia costiera sul versante francese sarà notevolmente ridotta. Comunque tensione smorzata oggi allorché i pescherecci si sono ritirati forse intimoriti dalle navi da guerra inviate ieri da Boris Johnson. Anche se a sostegno dei pescatori il presidente francese Macron aveva a sua volta inviato due navi militari per presidiare l'area. Dal canto suo era intervenuta anche la Commissione europea la quale aveva accusato Londra di non rispettare le disposizioni dell'accordo post Brexit sulla pesca. Un accordo che a quanto raccontano i pescatori francesi se disatteso rischia di far naufragare la piccola economia di sopravvivenza della gran parte delle barche dei pescatori francesi. Il peschereccio aliseo della flotta di Mazzara del Vallo che era impegnato in una battuta a largo delle coste di Bengasi è stato mitragliato da una motovedetta militare libica. I colpi d'arma da fuoco hanno ferito il comandante Giuseppe Giacalone in mediato il soccorso di nave libeccio della marina militare. I militari libici smentiscono di aver sparato contro pescherecci italiani ma ammettono che sono stati esplosi colpi di avvertimento in aria per fermare imbarcazioni da pesca che avevano sconfinato. Incidente sul lavoro in Lombardia un uomo di 46 anni titolare di un'impresa edile è rimasto schiacciato da una lastra di cemento di 600 chili a Pagazzano in provincia di Bergamo. La vittima stava lavorando in un cantiere e al momento dell'incidente stava manovrando da terra con un telecomando una gru che trasportava la grossa struttura di cemento. Restiamo in tema di incidenti sul lavoro perché abbiamo raccolto la testimonianza di chi ne ha subito uno molto grave qualche anno fa, in servizio di Luciano Piscaglia. Un braccio amputato ed una vita relazionale e professionale interamente da reinventare. Sono state queste per Matteo Mondini le drammatiche conseguenze di un incidente sul lavoro. Mi è stato amputato il braccio dopo 37 interventi chirurgici, mi è stato impiantato un pacemaker cardiaco per cui bisogna veramente reinventarsi e subire un infortunio sul lavoro. È una tragedia che non coinvolge solo chi l'ha subito ma anche le persone che lo amano e che gli stanno di fianco. Era un giovane fabbro Matteo Mondini. Dopo l'incidente con l'aiuto della sua famiglia ha trasformato la rabbia in impegno. Oggi è un testimone anche per la regione Lombardia. Nelle scuole e nelle aziende della sicurezza sul lavoro. Manca proprio la cultura della sicurezza, manca nei lavoratori anche in alcuni lavoratori la percezione del rischio e far capire anche ai datori di lavoro che la sicurezza sul lavoro non è un costo ma deve essere come tutti gli altri asset all'interno dell'azienda. E anche gli ultimi tragici episodi lo confermano. È sempre più urgente investire in prevenzione. È una strage che continua, continua ogni giorno. Il mio motto è si lavora per vivere non per morire perché penso che ogni lavoratore, maschio o femmina, abbia il diritto di riabbracciare i propri cari al termine di ogni giornata lavorativa. Per la Chiesa l'incontro con lo straniero è un terreno fecondo per sviluppare ecumenismo e dialogo interreligioso. Così Francesco nel messaggio per la 107esima giornata mondiale del migrante e rifugiato che si celebra il 26 settembre. Paolo Fucili. Siamo come tanti granelli di savia, tutti diversi e unici, ma che insieme possono formare una spiaggia bellissima, una vera opera d'arte. Verso un noi sempre più grande, esorta Francesco. Quel noi che nel progetto di Dio è la famiglia umana e che nazionalismi aggressivi e individualismi radicali ha un frammentato e sfigurato. Così il prezzo più alto lo pagano quelli che diventano facilmente gli altri, stranieri, migranti e marginati delle periferie esistenziali, denuncia il messaggio diffuso oggi in vista del 26 settembre, giornata mondiale del migrante e rifugiato. Francesco invoca una Chiesa più inclusiva, senza paura né pregiudizi, proprio perché cattolica, cioè universale, dove ogni incontro con stranieri e migranti diventi un'opportunità di crescere. Perché il futuro che attende la società intera è un futuro a colori, si legge ancora, e lo sviluppo sostenibile non fa distinzioni fra autoctoni e stranieri, ospiti e residenti. Vale anche per la lotta alla pandemia, suggeriscono in sala stampa. Io credo che non ci sia un prima e un dopo. Mentre si aiutano le persone in difficoltà nei propri territori, bisogna pensare a tutti. Da mercoledì 12 maggio Papa Francesco tornerà a presiedere l'udienza generale nel cortile di San Damaso. Lo fa sapere la prefettura della Casa Pontificia, precisando che il tutto avverrà nel pieno rispetto delle indicazioni sanitarie previste. Il Pontefice dunque tornerà a incontrare i fedeli che potranno entrare dal portone di bronzo di Piazza San Pietro. Per partecipare all'udienza non sono necessari i biglietti d'ingresso. Domenica sarà beato Rosario Livatino, il magistrato ucciso dalla mafia il 21 settembre del 1990. Lo ricorderà un docufilm di TV 2000 presentato oggi in anteprima al Presidente della Repubblica, al Ministro della Giustizia e al Presidente della CEI. Il servizio di Clara Iatosti. Il Signore non ci vuole degli eroi. Ci vuole grandi nella semplicità come quella di Maria, come quella di Giuseppe. Ci sono ma non ci sono, però lascia il segno. È una storia di grande umanità e di straordinario coraggio quella di Rosario Livatino, il giovane magistrato siciliano nel mirino della stida agrigentina per le sue inchieste antimafia. Sapeva che sarebbe stato ucciso, si preoccupava solo per i suoi genitori, eppure non fece alcun passo indietro e ogni giorno chiese aiuto al Signore per portare avanti il suo prezioso lavoro. Stamani un docufilm di TV 2000, ricco di testimonianze, ha ripercorso il suo martirio, in odio della fede, alla presenza del Presidente Mattarella e della Ministra della Giustizia Marta Cartabia, del Cardinale Bassini. Noi stamattina abbiamo avuto la testimonianza di cos'è il Vangelo, là dove Gesù nelle beatitudini dice, beati gli affamati e gli assetati di giustizia. Con la mafia non si convive, ha detto il Cardinale, non si scende a patti, non può esserci alcun contatto né deprecabile inchino. L'appuntamento è per domenica alle 10 su TV 2000 per seguire la celebrazione di beatificazione del primo magistrato martire dalla cattedrale di Agrigento. Alle 21.20 il docufilm, Picciotti, che cosa vi ho fatto di male? Memoria dell'interrogativo di Gesù sulla croce. Al via la dodicesima rievocazione storica della Coppa Milano-Sanremo, gara automobilistica nata nel 1906. Gli oltre 70 equipaggi iscritti alla manifestazione sportiva sono sfilati a bordo delle loro auto storiche per le vie di Milano per la parata inaugurale. Compia oggi i 60 anni George Clooney, il ritratto di un uomo affascinante ma soprattutto capace di fare breccia nel pubblico per profondità e intelligenza. Fabio Falzone. Ha interpretato film iconici indimenticabili dalla serie di Ocean a Gravity fino al recente Midnight Sky, ma Clooney è sempre Clooney e piace proprio per questo, non solo perché è bello ma perché è intelligente e attento alle cause sociali. Le esigenze dei media le conosce bene, figlio di un conduttore televisivo e di una stella dei concorsi di bellezza. Da I.R. in poi, la serie che l'ha lanciato nel mondo, ha sempre saputo fare scelte interessanti e non scontate. Lo confermano i premi Oscar, due, uno come interprete non protagonista per Siriana e un altro come produttore per il film Argo. Non a caso due storie ambientate nella regione calda del Medio Oriente. Dire clone vuol dire anche ricordare il matrimonio felice con la bellissima avvocatessa Amal Alamuddin, coronato dalla nascita di due gemelli. Dopo tante fidanzate e qualche pettegolezzo, compresa la nostra Elisabetta Canalis, Clooney parla chiaro. Per me sposare Amal è stato come vincere al jackpot e la lunga pausa del lockdown, pur con tutte le sue difficoltà, ci ha reso ancora più uniti e più forti. Fare il marito e il padre è meglio che vincere l'Oscar. E anche il lavoro non si ferma, al cinema lo vedremo presto, nel film Ticket to Paradise, accanto a Giulia Roberts. È tutto, adesso il Medio è a seguire Federico Plotti con TGTG. A voi tutti l'augurio di una buona serata, arrivederci.